ragazzi buongiorno guarda che bella stavaglia bellissima vecchia come il cucù però bellissima pina la mia amica pinaba 79 ti adoro ti devo fare un monumento mi hai regalato mi hai fatto un regalo di nuovo uno dei tanti questa è la confezione mia per arrivato il corriere e spacchettiamo insieme mi piace un sacco di spacchettamenti però non compro mai niente spacchettare non faccio mai unboxing del busta box nell'altra roba allora quanta carta quanta carta tanta carta grazie pina ti ho già ringraziato suo tasso ti farò veramente un monumento perché non so come ringraziarti perché sei una vera amica anche se siamo lontani però sei una vera amica guarda quanta carta sei una vera amica io non lo so cosa c'è dentro ma lo sto prendo con voi guarda che bello che figata pina è bellissimo adesso poi lo prendo e lo guardo meglio aspetta che voglio tirare fuori tutto ok finito ci avevo preso gusto c'è tanta carta dentro ok rimettiamo la carta ti farò qualche pensierino anche io pina appena ho due soldini sicuro lo sai che mi fa piacere non te li faccio solo perché me li faccio perché mi va di farli ok perché te lo meriti anche soprattutto ok allora questa è bellissima è stupendo è un beauty giusto our love story poi fucsia con i tacchi c'è bellissima le scarpe che meraviglia è un beauty una pochette io chi adoro le pochette e i beauty è stupendo lo apriamo perché non vedo l'aria prima e il nuovo praticamente nelissimo impacchettato guardate che meraviglia bello c'è qualcos'altro pure dentro no pazzesco guarda che figo profuma di nuovo come i libri mamma mia che meraviglia profumo di nuovo stupendo c'è qualcosa dentro anche che figo è da viaggio io non vado in vacanza quest'anno però comunque è da viaggio ed è meraviglioso bella questa farfalla anche fucsia e già notare tutto fucsia grande pina mi conosci proprio come se ci vedessimo ci conoscessimo dalla vita una farfalla glitterata sa che mi piacciono i glitter brava grande pina fantastica portachiavi attenzione portachiavi bellissimo un portachiavi con la farfalla anche a te piacciono i portachiavi io ne ho uno con il basso però qui glitter è ancora più bello bellissimo ah è come l'agenda che cambia colore fighissimo la farfallina e poi questo cos'è no che figo che figata la 10 a 10 non so se va bene per il mio telefono perché un samsung samsung a 10 forse si non mi ricordo neanche il nome il nome del mio cellulare è bellissimo con le piume se ci sta è una figata new case impacchettato tutto nuovo meraviglioso fantastica pina è una custodia per il telefono la parte dietro del telefono sono sto registrando quindi non posso vediamo se ci sta magari ci sta anche può essere che ci sta che figo bianco non è il mio colore preferito però mi piace tantissimo grande pina ti adoro grandissimo con le piume che bello tipo scaccia pensieri tipo a chiappa sogni bellissimo 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 adesso appena finisco il video lo provo lo provo grande grazie mille per il mio compleanno che ormai è passato ma io apprezzo io apprezzo non ti preoccupare composizione palloncini no che figo i palloncini con l'unicorno che figata che figata il mio prossimo compleanno li uso non so già cosa usare che figo io sono un po bambina dentro quindi fighissimo composizione 5 pezzi palloncini a forma di cuore a forma di stella e l'unicorno bellissimo che figata adoro l'unicorno guarda che bello grande pina quattro regali portachiavi la trusqua il beauty bellissimo fucsi adoro me lo portano a dormire questa qui non vedo ora di provarla si sta dietro il mio telefono che mi serviva proprio la custodia per il cellulare e questo qui per il mio compleanno guarda che bello non so come funzioni e non lo voglio aprire adesso perché se no si sciupa però appena farò il compleanno di nuovo il prossimo anno lo userò sicuramente farò anche un video magari perché quest'anno non l'ho festeggiato il mio compleanno al 28 quindi vabbè comunque bellissimo questa qui adesso la apro e ti faccio un altro audio su whatsapp che tanto sai che io ne faccio sempre tanti di audio e farò anche un video sml perché tanto mi segui anche sul canale sml quindi ti ringrazio anche sul canale sml bellissimo e anche la letterina mi ha mandato che carina buon compleanno posso leggere in diretta spero che questi piccoli pensierini ti piacciono ti piacciono e ti arrivino in tempo per il 28 ma si chi se ne frega se arrivano anche il 30 chi se ne frega per serena che carina c'è anche una bella scrittura devo dire che carina grande fila ti adoro bellissimo si è bellissimo ma bastava il beauty bastava il beauty bastava il beauty anche solo il portachiavi e basta cioè non dovevi spendere i soldi per me assolutamente fantastica questo profumo di nuovo meraviglioso adesso non vedo l'ora di usare la pochette subito il portachiavi me lo metto attaccato alla borsa intanto rose fucsia va bene e se non va bene a me piace quindi chi se ne frega della moda vado a mio gusto bellissimo e questo qui non vedo l'ora adesso finisco il video e lo uso subito voglio vedere se ci sta speriamo che ci stia incrociamo le dita che ci stia a 10 mi sembra che sia il mio telefono a 10 non mi ricordo samsung a 10 boh l'altro è a trend 2 litre ma non ce l'ho più quindi vabbè non lo so se a 10 forse a 10 non mi ricordo sono fusa vabbè grazie pina un bacione grazie mille